Guardate! Siamo su un'isola magica nella baia dell'immaginazione. Dovremmo solo provare a credere di essere. Hai tutto il mio appoggio su questo, Brooklyn. Ma che cosa intendi esattamente per credere di essere? Io non lo so. Immaginare dei coni gelato è una cosa. Ma immaginare cosa potrei essere? Che succede se non lo faccio bene? Chelsea, se non pensi di poter fare una cosa e non ci provi nemmeno, Allora dimostrerai a te stessa che avevi ragione. Tu devi credere in te stessa. Malibu, è proprio quello che intendo. Bisogna crederci per essere. Dai, seguici e vedrai! Perché ogni sogno tuo dal tuo mondo sempre inizia. Tutto si realizza già. Qualsiasi fantasia potrà diventare realtà. Se lo vorrai. È semplice, sai come l'abc, ciò che desideri. Contiamo, uno, due, tre! Tu credici e vedrai che accadrà, sì. Una principessa, una fata, un sirena sarai, sai. E c'è l'emozione che sale. Non c'è nessun limite, il tuo sogno si avvererà. Wow, allora se la teoria di Barbie e Barbie è corretta, non solo possiamo vedere quello che ci viene in mente, ma possiamo essere quello che ci viene in mente. Sì! Ora siamo pronte per provare a crederci, Chelsea. Forse. Sul serio? Abbiamo appena cantato un'intera canzone. Che pubblico difficile. Beh, se ad esempio avessi provato a credere di essere, avresti fatto questo. Io credo di poter ruotare come una sirena! Anch'io! Ce l'avete fatta! Battì il cinque, stessi! Vedi, Chelsea, devi crederci. Beh, io credo di poter volare come una fata! Skipper, hai proprio un'immaginazione patata! A proposito, Malibu, ci stai provando? Malibu? Ecco un indovinello. Cos'ha una criniera e quattro zoccoli? Una capra alla moda? Sono io! Ho pensato di essere magica come un unicorno ed è successo! Wow! Ci sono, ci sono! È come dice l'indovinello, noi diamo forma alla realtà. Al quanto pare qualcuno ha imparato a crederci. E come? Ho creduto di essere! E adesso voglio credere di essere magica anch'io come un unicorno! Piccoli o grandi, i sogni iniziano con la nostra immaginazione. Si dice, infatti, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Oh, il pesce che vuoi vedere nel mondo. Questo significa che posso essere qualsiasi cosa. E non ti piace l'idea, Chelsea? Ma se posso essere qualsiasi cosa, come faccio a scegliere? Anche adesso non so decidermi tra l'essere una bambola o un unicorno. Unicorno Chelsea, bambola Chelsea. Unicorno Chelsea, bambola Chelsea. Wow! Non avere paura di tutte queste possibilità, Chelsea, ma festeggiale! Penso che l'isola ti abbia sentito dire festeggia! Quest'isola è davvero il massimo! Aspetta, ci sono? Farò del mio meglio! Non dovrò scegliere di essere qualsiasi cosa se proverò a essere tutto! Vediamo! Tocca a me! Tocca a me! Wow! Che forza! Malibu! Barbie! Io? Wow! Impressante! Ho immaginato di essere una scimmia! Ed ora eccola qui! Insomma, eccola qui? Beh, eccoci qui! Visto! È divertente provare cose nuove, ma attenzione a non esagerare! Nessuno vuole un panino con poco burro d'arachidi! Burro d'arachidi! Sul serio, fate attenzione! Non avete letto tutto l'indovinello dell'isola? Hai ragioni! Forse tra i miei vanno bene per ora! Oh! Oh, oh! Non riesco a smettere di immaginare più versioni di me! Ho pensato che duplicandomi avrei potuto valutare più opzioni! Ma più provo a essere di tutto e più è difficile essere me stessa! Oh, no! Oh, Elsie! Va tutto bene! Barbie, riesci a prenderla? Anzi, a prenderle? Io forse no! Ma noi sì! Chelsea! Oh! Barbie! 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 Chelsea! Ricordati chi sei! Oh! Sono Chelsea! Sono audace, buffa e creativa! Adoro gli scherzi, il nuoto, i miei amici e la mia famiglia! Ha funzionato! È tutto ok, ci siamo solo noi! Aspetta! Ci siamo solo noi! Barbie! Skipper! Stacy! Oh, oh! Posso essere così tante me! Ma da ora in poi, chiunque io sia, metterò sempre prima i miei amici e la mia famiglia! Andiamo a cercarle! Hai dimenticato che non sei più un unicorno? Hai! Hai cheIEH! Ahahaha! Hai! Ehi, ehi, ehi.